Meglio, meno male, perché questo piove sempre amiche, piove sempre, tutti i giorni piove, vuole smettere questa pioggia, ci va bene anche il freddo, anche il freddissimo, ma un po' di tregua con la pioggia, perché stamattina amiche, ieri mi sono lavata i capelli, stamattina volevo mettermi il mio pellicciotto, niente, ho dovuto mettere il piumino col cappuccio perché è più pratico, e quindi non mi sono messa quello che volevo, devo soprassedere alla pioggia, detto ciò amiche, mi raccomando, siate con noi perché abbiamo tante belle cose da vedere e soprattutto se io mi dimentico qualcosa, pensateci voi, chiamate e dite Manu, Manu, voglio vedere questo, Eve a casa, sta bene, ieri pensavamo avesse un po' di febbre, invece sono arrivata a casa, glielo ho misurata, sta benissimo, era solo noiosa, ora starà già facendo il suo sonnellino mattutino, dai Giulia iniziamo, allora Giovanna adesso ti accontento immediatamente, intanto buongiorno a tutti anche da questa postazione, amiche, devo salutare Giovanna da Roma e sua figlia Emanuela, un bacio che si chiama come me, poi mando un bacio a Giuseppe e mando anche un bacione a Viaggio, grazie a tutti questi amiche, ma anche ai maschietti che ogni tanto bisogna salutare anche loro, torniamo ancora un secolo, cosa? Zebrata marrone con il portamonete, te la puoi prendere lì, portamonete, zebratolo ora, lo prendiamo, non ce l'ho più zebrati ora, portamonete, lo devo andare a prendere di là, allora, poi detto questo, mi passi quello zainetto rosa che l'ho liquido? allora amica, approfittatene perché vi sto facendo degli scontoni, allora, ebile a casa, a casa mia, diciamo a Milano, quindi poi dovrò fare un po' di preparativi perché avremo un po', spero che arrivino tutti i ragazzi e poi dovrebbe venire per Capodanno a trovarmi un'amica, quindi dobbiamo prepararci amiche ora, tutto mi cade oggi, c'è qualcuno che mi pensa, speriamo in bene amiche, allora, maglia grumè, per una signora che me l'ha richiesto, con gli E non ne ho più molti, e quindi amiche, poi arriviamo, poi, eccoli qua, ultimissime disponibilità, lab 168, mi sembra Giulie perché sia un po' cancellata, allora, attenzione, allora, vediamo gli orecchini, allora, voi, del collier, c'è scritta la misura, è l'EB 73, gli fai uscire le misure, il bracciale arriva fino a 23 cm ed è regolabile, e la collana è una Chanel, qui ne arriva fino a 80 cm, 73, guarda un po', Giulie, tiragli fuori il lab 73, poi, allora, bustine da 25 euro, 84 cm, e il bracciale da 23, allora, allora, vai avanti adesso con i due anelli, bellissimi, taglio smeraldo, color rubino e color zaffero, amiche, bellissimi, 39 euro caldo,